buongiorno buongiorno a tutti siamo qui per mostrarvi quello che su kickstarter nessuno vi ha mai voluto dire ovvero quello di poter manipolare a proprio piacimento qualsiasi campagna da noi lanciata e vi faccio vedere come partendo dal presupposto che a kickstarter di farvi arrivare al goal ovvero alla fine del progetto avendo raccolto i fondi per il vostro progetto non gli interessa assolutamente niente per quale motivo vi dico questa cosa perché su kickstarter quando si lancia un progetto il progetto viene messo alle ultime posizioni kickstarter vi dice come migliorare la vostra posizione ed è quella di far girare il video su tutti i social media di coinvolgere i vostri amici per far girare il video della campagna e quindi praticamente tutti i finanziatori che potrebbero vedere il vostro progetto non lo vedono fin quando fin quando non iniziano a entrare dei finanziatori tramite le campagne sui social media e iniziano a praticamente a donarvi qualcosa attenzione non non basta donare soldi ma ciò che vi fa salire di posizione in kickstarter praticamente sono i finanziatori più finanziatori avete quindi molteplici finanziatori da 5 euro o da 5 dollari vi fanno salire di livello e la cosa più interessante che praticamente ognuno di noi si può autofinanziare e creare degli account fasulli in modo da farli sembrare dei veri finanziatori che mettono soldi per il vostro progetto e vi faccio vedere come eccoci proprio in questi giorni hanno modificato il sito e quindi non basta andare su su questa parte su questa sezione del sito ma bisogna praticamente andare in questo punto qui praticamente ci inventiamo dei nomi a casaccio tipo non lo so vasco rossi no vasco rossi no che dopo si incazza mario diletta in questa parte qui praticamente create senza nessun criterio un indirizzo email che non esiste quindi non c'è bisogno di creare un account email sui vari siti basta inserirne uno a casaccio quindi possiamo dire di fare mario diletta 121 chiocciola gmail qui non mi ha dato il 121 chiocciola gmail.com copiamo questa parte e la rincolliamo nella parte nella parte password possiamo scrivere mario diletta 121 e rifarlo nella parte di reinter password mario diletta 121 andiamo a creare l'account ed eccoci ci ha creato praticamente un account andiamo a vedere in questa parte qui mario diletta e qui praticamente possiamo muoverci tra le varie sezioni del nostro account adesso io passerò praticamente alla mia campagna perché sono un creatore di un progetto che ho lanciato su kickstarter e lavorandoci mi sono scontrato già con un migliaio di bug del sito alfa bet è la camp la mia campagna è questa qui alfa bet folding stick che praticamente altro non è che un gioco educativo per bambini che ho creato allora in questa parte qui io posso già a questo punto finanziare il mio stesso progetto vado a scegliermi praticamente quello che voglio donare per la mia campagna e clicco su quello da 5 ecco qua praticamente andiamo qui ecco qua in questa sezione qui a questo punto io metterò il mio numero di carta ecco qua in questa parte e nella sezione remember this card for future pledge diciamo di non ricordarla perché in questo modo praticamente la piattaforma non memorizza la mia carta e posso continuare a creare account fasulli e quindi praticamente solvenzionare contribuire alla riuscita della mia campagna andiamo qui ed ecco fatto noi abbiamo contribuito alla realizzazione del progetto e e ora vi spiego che cosa succede in questa situazione kickstarter crea milioni e milioni e milioni e milioni di contatti in tutto il mondo sulle varie piattaforme dei social media partendo da facebook instagram twitter e così via quindi praticamente loro sulla loro piattaforma fanno vedere evidenziano mettono in evidenza soltanto le campagne che vanno meglio e come ripetevo prima come dicevo prima che le campagne che vanno meglio non sono soltanto in base a quanti soldi hanno raccolto ma soprattutto quanti finanziatori sostengono la campagna perché questo perché loro i finanziatori fanno girare video ne parlano su facebook ne parlano su vari social media e quindi succede che il maggior introito per la piattaforma di kickstarter non è il 5 per cento dai vostri 4 spiccioli di una campagna che può essere da 10 15 20 30 mila euro che per loro diventano effettivamente soltanto piccoli ma l'introito più grosso da kickstarter è praticamente fatto sui social media ora vi passo a far vedere praticamente quello quanti account ho creato su kickstarter loro qui vi dicono di andare a praticamente a confermare l'email sulla vostra sul vostro account di posta elettronica però c'è da dire una cosa che anche non non andare non andando a confermare l'email una volta che voi avete donato e anche una volta che loro cancellano l'account perché non hanno risposta dalla mail che cosa succede rimangono comunque sia i soldi che vi siete donati e sia il numero di backer ovvero i finanziatori quindi capite che a questo punto ognuno di noi con 10 amici con la stessa carta di credito può autofinanziarsi e autofinanziarsi i soldi non vengono toccati dalla carta fino a quando non si raggiungerà il gol però questo che cosa succede se io ho 10 amici e gli do il mio numero di carta prepagata e attenzione prepagata e quindi non una carta di credito vera e propria ma una prepagata dove sopra questa prepagata ci sono 0 lire che cosa succede che praticamente i miei amici 10 miei amici in un'ora creano 100 finanziatori fasulli in 3 ore ne creano 300 in 10 ore ne creano 1000 chi va su kickstarter e vede una campagna dove ci sono 1000 finanziatori a quel punto viene viene quantomeno manipolato in un certo senso perché sappiamo tutti che dove ci sono persone si formano altre persone cioè si mettono in coda altre persone perché sono influenzati ecco la parola giusta sono influenzati dal comportamento di altre persone che in questo caso non esistono non esistono io a questo punto vado a identificarmi come il mio creatore cioè come colui che gestisce la propria campagna vado nella mia sezione e andiamo in beckett project credo no 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 andiamo qui e a questo punto c'è beckett report come vedete io ho qui il mario diletta che ho creato in precedenza e che ha contribuito praticamente a alla mia campagna ma tutti questi che vedete da 5 e anche da 11 euro li ho praticamente creati tutti io allora quello che ora voglio praticamente dirvi volete lanciare la vostra campagna su kickstarter dove loro si spacciano per una piattaforma meritocratica e quindi loro vi dicono vi fanno intendere che la vostra campagna è uguale a un'altra cosa che in effetti non è perché capite che partire al quattrocento al quattrocentesimo posto in una sezione di della piattaforma partire a quelle ultime posizioni fa sì che praticamente i veri investitori di campagne non vedranno mai la vostra idea mai per quale motivo perché che come ognuno di noi dopo praticamente un'ora che si trova a girovagare per per kickstarter si scoccia e se non c'è qualcosa di interessante chiude la piattaforma e quindi che cosa succede i primi minuti che si guardano le nuove idee sono le idee che kickstarter mette in risalto perché sono quelle più con più finanziatori e con dei fondi tra parentesi fittizi perché fin quando non si arriva al traguardo non vengono sbloccati dalle carte quindi automaticamente io posso influenzare chiunque e andare alle prime posizioni e e farebbero questo giochino io invece ho deciso a questo punto di passare dalla piattaforma kickstarter ad una piattaforma che a parer mio è veramente meritocratica per quale motivo e questa piattaforma si chiama Indiegogo vi spiego perché perché Indiegogo ha due sezioni che racchiudono tutte le altre sezioni ha la sezione campagna appena lanciata e campagna che sta finendo quindi praticamente che cosa succede quando andiamo in esplora noi verremo proiettati all'inizio del nostro lancio della campagna per 48 ore verremo proiettati all'inizio della pagina e infatti qui vi dice le due sezioni ho tutto quindi se praticamente ho tutte le campagne che stanno iniziando che stanno finendo oppure andiamo qui e ci sono le campagne appena lanciate e in più e quindi racchiudono tutto la tech innovation creative work la community project e quindi nella parte iniziale noi siamo visibili alle prime pagine dove effettivamente persone che cliccheranno sul mio sito sulla mia campagna scusate avranno modo di valutare se l'idea è valida oppure no e quindi quello che io voglio dirvi oggi volete lanciare una campagna su kickstarter che il loro introito non viene creato dai vostri progetti ma da tutto quello che ci ruota intorno quindi i vari social media che non fanno altro che parlare di loro e quindi non interessa a loro che voi arriviate al gol oppure meno e quindi vi fa partire dalle ultime posizioni o su una piattaforma come indiegogo che vi dà effettivamente l'opportunità di capire al di là di tutto di capire se la vostra idea è veramente un'idea valida oppure no cioè vi dà quella possibilità quindi ragazzi ora sta a voi capire che cosa volete fare se spendere tanti soldi in campagne pubblicitarie su facebook far girare il video su tutte le piattaforme rompere i coglioni a tutti gli amici ai parenti per far muovere questo progetto su kickstarter e quindi concedendo a loro ulteriori introiti quindi o coinvolgere un po' di amici e passare su indiegogo e lanciare su indiegogo dove tutti hanno la possibilità di far vedere la propria idea e capire se è un'idea valida oppure no con questo ragazzi vi saluto e spero di avervi dato un minimo segno delle cose che non vi raccontano su kickstarter che ecco una passata l'espa di e l'espa 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 Grazie a tutti.